Alcune posizioni sindacali francamente cervellotiche, chi non si vuole vaccinare deve avere il tampone gratuito, cioè tu hai gratuitamente la possibilità di vaccinarti, decidi per fare i fatti tuoi che non ti vuoi vaccinare, alla fine lo Stato ti deve pure pagare il vaccino. Siamo veramente alla follia. Quando dovrebbero essere i sindacati per primi, oltre che gli imprenditori, abbattersi per avere la diffusione della vaccinazione, per evitare che l'esplosione di un focolaio Covid costringa a chiudere le fabbriche e a togliere il lavoro agli operai.